E va e va, volevi vedere la sacca dello zio, oh eccola qua, la sacca dello zio, adesso te la spiego, come è fatta una sacca da golf, me l'hai chiesto mille volte, adesso te lo spiego, allora, prima di tutto, come regola si possono avere al massimo 14 bastoni, anche meno, però al massimo 14, questo è il drive, quando lo zio tira lungo che fa 250 metri, ci arriverai anche tu, questo è il drive per tirare forte, diciamo è un po' il primo colpo. Questo invece è il legno 3, che sembra un po' suo figlio, è un po' più piccolo, si possono fare circa 220 metri dal ferro, dove c'è l'erba rasata, e poi guarda che carino questo qui, questo è il rescue o ibrido, praticamente è ancora più piccolo, diciamo che è il nipote del drive, ancora più piccolo, si fanno circa 180-200 metri, poi vabbè, lo zio, i professionisti, chiaramente anche di più. Poi ci sono i ferri, lo zio, il set di ferri va dal ferro 4 al pitch, questo è un ferro 7, il tipico ferro 7, più il numero è alto 7, 8, 9, più la palla vola alto e va corta, il ferro 4 per esempio va bassa e va molto lunga. Poi uno dei miei bastoni preferiti, anzi il mio bastone preferito per eccellenza, è il sand, quello per uscire dal bunker, vedi, è un po' più tondo, un po' più cicciotto e tira la palla veramente molto alta, ma corta. E poi per finire c'è il pad, guarda che bel cappuccio. Questo è il bastone per fare l'ultimo colpo, quello per imbucare sui green. Hai capito la sacca dello zio? Sì. Rimetti a posto. Sì.